Relazioni tese tra Italia e Francia dopo l'uscita in tv del ministro degli interni francese Darmanin sul premier Meloni, definita incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta. Parigi si era affrettata a gettare acqua sul fuoco, il governo francese auspica di lavorare con l'Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori. Non è bastato, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la sua imminente visita a Parigi, bollando le parole di Darmanin come offensive totalmente inaccettabili.